Emma Marrone ed Elisa hanno litigato? Ecco l'indizio sul web Belle e complici, Emma Marrone ed Elisa hanno dimostrato al mondo come due artisti non debbano per forza di vivere di competizione, anzi. Colleghe in un talent show, le due pop staranno fin da subito legato, ma a quanto pare una divergenza professionale avrebbe portato qualche ombra sul loro rapporto. Secondo un gossip di un settimanale, tra le due sarebbe scoppiato un litigio, Emma ha immediatamente preso posizione, spiegando la sua verità. Emma Marrone ed Elisa, litigio o bufala? Amiche ormai da alcuni anni, Emma Marrone ed Elisa sono due tra le cantanti più apprezzate del panorama artistico italiano, collezionando milioni di fan all'attivo. Il loro stile unico, combinato ad una personalità forte e determinata, le ha rese più simili che mai e ben presto un rapporto professionale si è trasformato in una importante amicizia. Ultimamente però, secondo il gossip di un settimanale italiano, si era parlato di un litigio intercorso tra le due, causato da una divergenza di opinioni professionali piuttosto accesa. I fan si sono immediatamente spaventati, incredoli davanti a questo fulmine a ciel sereno, solo pochi giorni fa infatti Emma aveva partecipato ad uno dei tre concerti di Elisa all'Arena di Verona organizzati per festeggiare i suoi 20 anni di carriera. Alcuni hanno ipotizzato che fosse accaduto qualcosa di spiacevole nel dietro le quinte, ma la cantante Salentina, sempre pronta a dire la sua opinione sfidando qualsiasi critica, ha ribaltato completamente queste dichiarazioni con un tve al vetriolo, leggo articoli di un litigio tra me e mia sorella Elisa. Fate ridere i polli e per essere elegante. E siete di cattivo esempio. La storia di un'amicizia tutta al femminile. Nonostante siano entrambe due tra le voci più apprezzate del panorama artistico contemporaneo, Elisa ed Emma Marrone non hanno mai avvertito nessuna competizione anzi, la loro partecipazione allo stesso programma televisivo ha permesso di stringere un'amicizia profonda. Entrambe hanno un carattere forte e determinato, ma i loro caratteri si sanno anche compensare alla perfezione, la cantante Salentina è solare ed energica, mentre Elisa più riservata e timida. Da loro sodalizio umano è derivato poi un sodalizio professionale molto apprezzato da parte dei fan, che hanno avuto la possibilità di vedere le loro beniamine insieme sul palcoscenico, più esplosive e sciamai. Oltre ad essere icone della musica, entrambe sono molto seguite sui social network, Elisa promuove i suoi numerosi tour mentre Emma si dedica molto anche alla sua passione per il fashion e il beauty. In particolare la cantante Salentina, con i suoi oltre 2 milioni di fan, è diventata una trendsetter, oltre che un punto di riferimento per gli amanti delle ultime novità nel campo della moda e del make-up. Amiche, quasi sorelle, Elisa ed Emma Marrone sono a tutti gli effetti inseparabili, lanciando un messaggio molto bello, l'amicizia tra donne non solo è possibile, ma può trasformarsi in un legame indissolubile, capace di portare alla realizzazione di magnifici progetti. Allarme annullato quindi per i fan delle cantanti, le due pop star sono più unite che mai.